Allora siamo qui con Mansur, nuovo acquisto del Varese. Siamo pronti a fargli alcune domande su cosa pensa di questa esperienza che è pronto a iniziare da subito. Mansur, benvenuti a Varese. Quali sono i tuoi sentimenti e come sentite di iniziare questa nuova esperienza qui con noi? Sono venuto qui e mi sento molto bello qui e sono molto felice di essere qui. Sono molto felice di essere qui e mi rendono molto felice e mi sento molto bene qui. Quali sono i tuoi elementi sui piatti? Come potete giocare? Come potete giocare per la squadra? Penso che sono un giocatore che gioca per la squadra. Sono un giocatore tecnico, posso scoprire gol. Quindi, normalmente, bisogna giocare per la squadra. Il giocatore ciò che vi mostrerà il modo. E' un giocatore che ciò che vi mostrerà, perché sono nuovo qui e bisogna incontrare prima la squadra, per sapere la squadra. E, sì, cercherò di fare il mio meglio qui e di fare tutto per la squadra. Ho spero di scoprire molti gol e che, dopo questi 4 mesi, rimaneremo nella squadra. Ok, grazie. È un attaccante, si tratta di un attaccante, ha sempre piaciuto segnare molti gol, ma anche essere utile alle dinamiche di squadra. Ovviamente, sarà poi al mister Stefano Bettinelli, che conoscerà a breve, decidere come, quando e quanto impiegarlo sul campo. Quindi, finalmente, potete dire qualcosa ai supportatori di Varese? Io voglio dire che arriviamo al giocatore di Varese, a Saturday, forza Varese! Grazie, forza Varese! Vi aspettiamo tutti allo stadio sabato!